LIC! Ben ritrovati avventori del Luisona Bar Calcio! Notizia fresca fresca di ieri è arrivato, è sbarcato, è sbarcato con la nave al porto, al noto porto di Bologna, De Silvestri. De Silvestri è ufficialmente un giocatore del Bologna Football Club, quindi accogliamo la braccia aperte e è arrivato il nostro nuovo terzino destro per la stagione 2020-2021. Molto, molto presumibilmente sarà il terzino destro titolare in quanto, in quanto, come ormai sembra noto ai più, specialmente a noi del Bar Luisona Calcio che siamo documentatissimi su tutto quello che riguarda il mondo rosso-blu, sappiamo della possibilità di far scalare Tomiasu nel pacchetto dei difensori centrali. Quindi, quindi ben arrivato, ben arrivato a Lorenzo De Silvestri che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche al Bologna e abbiamo in esclusiva per voi, abbiamo in esclusiva per voi come è andata la giornata di ieri di Lorenzo De Silvestri. Come facciamo a saperlo? Mamma mia che roba che siete! L'abbiamo chiamato al telefono, con questo telefono l'abbiamo chiamato, con questo quello che fa anche l'aria fredda, eh? Mica male! Abbiamo sentito, anzi lui ci ha chiamato, De Silvestri ci ha chiamato e la prima cosa che ci ha detto è, Luisona mi sono iscritto al tuo canale mentre ero sulla nave in direzione Bologna e io gli ho detto, De Silvestri, eh De Silvestri sei un calciatore, ma prima ancora un uomo molto saggio e allora lui ci ha tenuto anche in dovere di informarci come si sarebbe svolta la sua giornata e quindi noi ora ve lo possiamo dire. Allora è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, quindi una volta che si è messo un attimino a posto, ha preso le sue robe, si è spostato in zona, in zona, in zona stadio diciamo, in zone limitrofe, più specialmente in via Saragozza dove all'agua caffè, all'agua caffè si è fatto un aperitivo alle 18, un bel gin tonic, giusto per corroborare le visite mediche che avrebbe avuto appunto alle 19, quindi si è presentato alle visite mediche con un bel gin tonic nello stomaco, ovviamente visite mediche della Madonna sono andate da Dio, quindi gli hanno fatto subito firmare il contratto definitivo, hanno messo nero su bianco, De Silvestri, tu sei il calciatore e l'uomo, il vero uomo ideale, dopo vi spieghiamo anche perché diciamo così, per il Bologna a calcio, per il Bologna a calcio. Quindi tutti contenti, dopo le visite mediche, De Silvestri, i suoi amici, l'entourage di De Silvestri si sono spostati, si sono spostati sempre in Saragozza, ma questa volta oltre Porta, oltre Porta Saragozza e sono andati a farsi due porzioni, ripeto due porzioni di tagliatelle come vecchia scuola comanda fatte dalla sdoura, di tagliatelle al ragù bolognese all'osteria dei tre leoni, ebbene sì. E il tutto è finito? Eh? Non è mica finita qua, voi pensavate che fosse finita qua, eh no! Poi si sono spostati allo Scorpione, sempre in zona Saragozza, lì vicino, e lì, e lì ha fatto una degustazione, una degustazione ampia di distillati e liquori emigliani. Quindi complimenti per la scelta, prima giornata a Bologna, fantastica De Silvestri, benvenuto ufficialmente, eh? Perché ho detto che il calciatore è l'uomo ideale dopo poi questa giornata? Perché, notizia sempre di ieri, Sabatini ha parlato, eh? Sabatini che lui, cioè, lui è uno dei primi che si è iscritto al canale, non vi sto neanche a dire perché, tra fumo, eh? Alcol e diciamolo belle bionde, eh? Perché Sabatini è uno che ci dà e ci ridà, eh 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 grande Sabatini ha parlato un po' della situazione Bologna, ha confermato, ha confermato che l'Europa non si raggiungerà sul mercato, ma si raggiungerà lavorando sodo in campo, migliorando. Quindi sarà compito di Mialovic spremere questi giovinastri e farli diventare dei calciatori a tutto tondo, da 20-30 milioni l'uno. Ha aggiunto, note sul mercato, Hitchkey, Hitchkey, soprannominato da noi ormai lo sappiamo, Spongebob. Spongebob, cioè Hitchkey, su Hitchkey ha detto, ha detto che è un giocatore, ha detto che è un giocatore che è molto intelligente tatticamente, che sa fare tutta la fascia ed è un profilo che al Bologna calcio interessa moltissimo e che faranno di tutto per prenderlo. Parole di Sabatini, gli hanno chiesto, ma lo sa che sopra il giocatore ci sta anche il Bayern di Monaco, il Bayern, perché il Bayern e il Leverkusen, ci sta anche il Bayern di Monaco e lui ha detto, sapete cosa ha detto? Ha detto meglio, ha detto meglio, perché il Bologna si vuole confrontare con grandi obiettivi, perché vuole diventare grande e quindi a noi avversari, pur sul mercato, che si chiamino Bayern di Monaco, non ce ne può sbattere una minchia sopra l'altra, anzi meglio, meglio così, perché altrimenti se fosse stato seguito, questo non l'ha aggiunto, ma si è capito, se fosse stato seguito dallo Spezia non ci sarebbe più interessato. Quindi su Ichki il Bologna torna prepotentemente forte, torna, lo è sempre stato, solo che a noi non è dato da sapere, sembrava che dopo le dichiarazioni nefaste dell'allenatore del Hearts of Midlothian sembrava essere un obiettivo sfumato e invece no, e invece no, il Bologna è fortissimo su Ichki e proverà in tutti i modi a portare a casa questo che sembra essere un grossissimo talento. Chiosa di Sabatini anche su Supriaga, su Supriaga è stato quasi più criptico che su Ichki, perché se su Ichki ha detto proveremo in tutti i modi a prendere questo ragazzo, su Supriaga ha fatto intendere di capire che la trattativa deve ancora trovare uno sbocco perché si possa concludere che non è semplicissima ma che comunque si proverà ovviamente in tutti i modi anche lì a trovare la risoluzione. Però dalle parole di Sabatini sembrava quasi più possibilista su un arrivo di Ichki piuttosto che di Supriaga, posto, posto, che il sottoscritto, eh, il Sabatini stesso, pensano che potranno arriverà entrambi. Tra il tutto, tra tutto questo, io sono quasi più preoccupato per la casella del difensore centrale, perché è lì che secondo me invece è la situazione un po' più ingarbugliata. Tanto è vero, e qui mi rizzano, mi si rizzano i peli del culo, eh, tant'è vero che sarebbe spuntata fuori ieri in nome, tenetevi forte, bene sì, di Andrea Ranocchia. E qui io mi tasto e mi tocco veramente i coglioni e vi invito a farlo tutti. no a Ranocchia, no a Ranocchia, no a Ranocchia. E Sabatini, noto frequentatore del Luisona Barcalcio, ha detto a domanda no a Ranocchia, perché gli hanno chiesto a Ranocchia, è vero che lo state seguendo? E lui ha risposto a Ranocchia, non è un profilo dal Bologna, per il Bologna interessante. Vuoi per l'età? Soprattutto perché il Bologna va a cercare profili differenti. No a Ranocchia, e io aggiungo anche no a Ferrari, quello del Sassuolo, no a Ferrari, per favore no a questi profili, no. Allora, se Nianco non dovesse essere cosa fattibile, Bologna, Sbigon, Sabatini, Divaio, qui sull'Usona Calcio vi sono state messe, vi sono state proposte le alternative valide, valida a Lianco, nel qual caso debba sfumare, che non sono assolutamente Ranocchia o Ferrari. Quindi andate, Bologna, Sabatini, Divaio e Mielovi, c'è di pescare il video alternativa a Lianco, è lì che dovete attingere. Bene, oggi pomeriggio uscirà un nuovo video sul Bologna per quanto riguarda quelle che sono le aspettative per l'anno nuovo. Quindi attiva la campanella per essere uno dei primi avventori a vederlo. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un mi piacino e se hai qualcosa da dirmi o da chiedermi, lasciami anche un commentino, sappi che mi trovi anche su Twitter, su Twitter e lì non mi stancherò mai di ripetertelo, twitto solamente quando sono in uno stato etilico di quelli sabatignani, eh? Questa è bella, sabatignani. Bene, non ci resta che adesso inviare questo video a tutti i nostri amici tifosi del Bologna Calcio, non mancare di inviarlo, facciamo diventare questo canale per Bologna e per il Bologna Football Club un'istituzione! E ci sentiamo alle prossime chiacchia da bar!